E' stato il presidente della regione Marco Marsiglio ad inaugurare ad Avezzano la nuova terapia intensiva modulare dell'ospedale civile. Si tratta di una struttura di 700 metri quadrati dotata di 7 posti letto realizzata in quanto parte dell'attività di potenziamento delle misure anti-covid previste dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. Si tratta di una struttura moderna e innovativa, ha evidenziato il presidente Marsiglio, che permette di controllare 7 posti letto da un'unica postazione e che aiuta a diminuire l'esigenza di nuove risorse umane. Questa terapia intensiva è completamente separata dal resto del corpo dell'ospedale e direttamente collegata con il pronto soccorso e consente quindi di poter curare e ricoverare i pazienti colpiti delle malattie infettive in una fase acuta senza avere nessun impatto con il resto dell'organizzazione ospedaliera. Garantisce quindi grande sicurezza sia i pazienti di malattie infettive che a tutto il resto dell'ospedale, completamente protetto dal virus. Marsiglio ha ringraziato il commissario Figliuolo e la struttura commissariale per aver accolto la richiesta di realizzare questo intervento, per aver seguito tutta la procedura, garantendo un milione e mezzo di euro di intervento complessivo, compresi gli oltre 100.000 euro messi a disposizione dalla ASL per completare l'opera. Soldi ben spesi per dare maggiore forza alla nostra sanità, detto Marsiglio, e garantire buone condizioni di lavoro ai nostri medici e a tutto il personale che ha saputo fronteggiare una stagione difficilissima. La struttura commissariale per l'emergenza Covid ha autorizzato la regione Abruzzo ad assumere 77 operatori sanitari per le esigenze della campagna vaccinale. Lo ha comunicato l'assessore della salute Nicoletta Veri. Le precedenti disposizioni, ha spiegato l'assessore, prevedevano la chiusura degli hub vaccinali al 30 ottobre scorso e la contestuale interruzione di numerosi contratti di lavoro legati proprio a queste strutture. L'andamento dell'epidemia e l'ulteriore accelerazione delle vaccinazioni ha spinto però la struttura a rivedere l'intera organizzazione e a mantenere in funzione. Restava il nodo del personale perché i dipendenti ASL erano nel frattempo tornati alle attività ordinari in ospedale e non potevano essere stipulati nuovi contratti a termine. Ora queste difficoltà potranno essere superate grazie all'intervento da generale Figliuolo che ha autorizzato le nostre istanze concordate insieme al referente regionale per la campagna vaccinale Maurizio Brucchi. Le aziende sanitarie dunque potranno avviare le procedure di reclutamento. I contratti avranno durata di sei mesi con possibilità di rinnovo. Approvato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome lo schema definitivo di decreto che prevede l'assegnazione ed importanti risorse ai comuni di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti in riferimento al rafforzamento della mobilità ciclistica. La misura è volta a finanziare, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntis, gli interventi di realizzazione di piste ciclabili urbane nelle città che ospitano le principali sedi di università. Infatti l'intento delle risorse stanziate dalla PNRR è quello di integrare la mobilità ciclistica con quella ferroviaria collegando i più importanti nodi ferroviari agli Atenei. Le risorse dovranno essere impegnate per la realizzazione delle infrastrutture di collegamento entro il 31 dicembre 2023 per ottemperare al primo obiettivo ed entro il 30 giugno 2026 per la chiusura definitiva dei progetti. Un salto di qualità importante che pone il parco in una dinamica completamente diversa dove l'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale ed il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta. Così il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore ai Parchi Emanuele Imprudente è intervenuto all'Aquila a quattro mesi dall'insediamento della nuova governance del parco per fare il punto delle attività di rilancio messe in campo insieme al Presidente Francesco D'Amore, al Direttore Gino Chiuchiarelli e al Presidente della Comunità del Parco Mario Cercarelli, rappresentanza dei Comuni. Imprudente ha espresso apprezzamento e orgoglio per i risultati raggiunti. Era doveroso, ha detto, fare il punto della situazione per il percorso espletato, anche per dare un segnale a tutti coloro che diffidavano in relazione alle scelte operate o semplicemente non si aspettavano alcun cambiamento. Si data di iniziative che erano ferme da anni e riguardano l'aggiornamento del piano del parco, il piano antigenio e la realizzazione della Carta europea per il turismo sostenibile. Questa certificazione rappresenta uno strumento fondamentale su cui si realizzerà l'azione vera per una migliore gestione delle aree. Ma non solo, c'è ancora molto altro. Questa è la dimostrazione, conclude il Vicepresidente Imprudente, che la forza e la coesione del territorio è decisiva per lo sviluppo e per il lancio di aree, come quella del parco, dimenticate per anni e considerate solo su presupposti ideologici utili alla conservazione non della biodiversità ma dell'abbandono e dello status quo. Per questo ringrazio il Presidente d'Amore, il Presidente della comunità Cercarelli e il Direttore Chiuchiarelli, unitamente a tutti gli attori della nuova governance. Via Libera della Giunta regionale al piano triennale di istruzione ed educazione per i bambini da 0 a 6 anni. L'ha reso noto l'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale, che ha presentato all'esame del Governo regionale la programmazione relativa agli anni 2021-2023. Nel successivo triennio, annunciato Quaresimale, la Regione Abruzzo mette in campo risorse per circa 19 milioni di euro, un impegno importante che vuole evidenziare la centralità nella politica regionale del settore delle politiche educative e distruttive dei più piccoli. Il piano regionale 0 a 6 anni risponde agli obiettivi che si pone il piano di azione nazionale, concordato con il Ministero dell'Istruzione e delle Regioni Italiane, a conferma di una Regione sempre più in sintonia con il resto del Paese. Nel prossimo triennio, aggiunto Quaresimale, con le risorse che andremo a derogare in favore dei 26 ambiti sociali regionali, contiamo di offrire più servizi alle famiglie, alzare il livello qualitativo dell'offerta educativa, incrementare il numero degli asseri nido e delle scuole di infanzia, supportare le sezioni primavera già esistenti, ridurre le rette a carico delle famiglie. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!